Sei a contatto con il vento, l'acqua. È bellissimo. Il legame e la sintonia con la natura. La vela gonfiata dal vento. Ci sono tante cose diverse che devi saper fare per praticare la vela. Magari uscire con qualcuno che ha già un po' di pratica. Il 4 e 20 è una barca un po' più tecnica. Ci vuole un po' più di esperienza per gestirla. La concentrazione e riflettere è importante. Dobbiamo imparare le precedenze, come in auto. Mi piace quando c'è vento e posso sporgermi un po' fuori bordo. È fantastico. Ci si impegna al massimo ed è un'esperienza bellissima, davvero unica. Non c'è una cosa più bella delle altre. Questo sport è bellissimo.